e sono partiti. Medeagrif con Melo Coton che va sulla battistata e passa, all'esterno c'è Maggio del Par, poi Milone Deimar e Nikos che è partito molto bene. Il primo a ritrazzi è Milone Deimar con Melo Coton che non ci pensa neppure a mandare qualcuno e così tutti vogliono andare alla corda. Cerca di accodarsi anche il 5 di maggio del Par dietro Medeagrif mentre Nikos rimane all'esterno. Quinto in corda il 9 di Love the Children all'esterno Minos-Ern. Melo Coton battistrada con Nikos che adesso si fa vivo, 27-2 comunque i primi 400 di gara e Melo Coton arriva ai 600 in questo momento in 42-7. Medeagrif scurva un po' larga e poi si rimette lì. Nikos adesso arriva con più convinzione su Melo Coton mentre è dura per gli altri di salire perché il ritmo c'è, 58 netti per i primi 800. Dalle elettrovie ha spostato anche Northbound che va in schiena a Minos-Ern che cerca adesso di risalire. Nel frattempo al chilometro Melo Coton fa segnare 1-13,5 e così si va con Melo Coton e Nikos alle prese. Medeagrif sposta Northbound da lontano anche per aggirare Minos-Ern. Si va sempre forte con Nikos che dà un severo attacco a Melo Coton e con un parziano in 15-2 passa al comando. Medeagrif allora anticipa Northbound lungo la corda, soffre anche Maggio del Par. Cerca di arrivare anche Love the Children che è produttivo. Con Nikos in fuga da Medeagrif che cercherà rimonta. Nikos in vantaggio con una curva in 14-9. Nikos che ha due di margine nei confronti di Medeagrif. Poi Melo Coton e Northbound, Nikos braccia a frusta per Nino Palanga e Nikos che va a vincere nei confronti di Medeagrif e poi per il terzo posto è Northbound. 1-14-3,31 a chiudere una bella quota quella di Nikos. 12-62, partito meglio di sempre con la racchetta. Gira tutta strada all'esterno, piega Melo Coton e chiude a quota di 12-62. Con Nino Palanga che torna al successo con il suo Nikos. 7-1-11 per l'ottava del San Paolo è tutto. L'appuntamento con le corse dunque è per venerdì. Ci troveremo sempre qui puntuali a Montegiorgio. Buona serata.